Ciao, siamo a Gavi, presso il centro commerciale del Forte, abbiamo concluso la nostra filiera appunto partendo dal chicco arrivando fino al pane, focacce, pasta e prodotti da forno in generale. Noi partiamo dalla coltivazione del chicco, maciniamo i chicchi in azienda, nel nostro molino e li trasformiamo in prodotti da forno qui da Triticum, presso il centro commerciale del Forte. Non siete nuovi all'esperienza di vendita diretta che già avveniva? Sì, già avveniva in azienda qui dietro, ma a 200 metri da qui dove c'è il molino, vendevamo solo farine, ora ci siamo spostati come vendita diretta e abbiamo aggiunto appunto diversi prodotti, dei quali veramente pasta secca, pane, focacce, pizze, farinata e quant'altro. Molto apprezzato dalla clientela è il vostro servizio di vendita a sfusa. Sì, abbiamo deciso appunto di commercializzare i nostri prodotti anche sfusi, evitando quindi ogni tipo di pack e far sì che ognuno possa comprare quello di cui ha bisogno senza sprechi di sacchetti, etichette e altre cose. Lo facciamo sulla pasta, sui biscotti, sulla pasta secca in particolar modo, sui biscotti grissini e tutti i prodotti da forno secchi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, per ora chiusi la domenica, dalle 7 del mattino alle 13 e dalle 14 alle 20. Siamo anche attivi sul web, su farinezerbo.it e sui social assolutamente Facebook, Instagram e Telegram. Eccoci qua, questo è il nostro bancone dove abbiamo, come dicevo, focacce, focacce al formaggio fatta con prescincea e crescenza della Valdaveto, pizza in teglia, focacce con cipolle, crostate. Tutti i nostri lievitati sono ottenuti utilizzando il nostro lievito madre probiotico, che è un lievito madre secco ottenuto con le nostre farine e un cluivero mices probiotico. Le nostre lievitazioni sono minimo di 48 ore, quindi otteniamo prodotti molto digeribili, grazie appunto a questa maturazione che alterna temperatura calda a fredda. e i risultati sono così, un pane molto ben lievitato, leggero ma molto consistente, nutriente e particolarmente digeribile. Eccoci invece, questi sono i nostri dispenser della pasta sfusa, pasta ottenuta con la nostra semola di grano duro e acqua, quindi per ora produciamo solo pasta senza uova. Questo colore è dato dalla farina macinata a pietra e la ruvidità è data dalla trafilatura al bronzo e dalla essicazione lenta a bassa temperatura. Essica dalle 12 alle 17 ore, al massimo a 48 gradi. Questa ruvidità fa sì che il condimento si attacchi perfettamente e resti molto buona, un gusto particolarissimo. Eccoci, Triticum nasce da qui, dalle nostre farine, ottenute ovviamente con i nostri chicchi, macinate in un'azienda a pietra. Noi quindi andiamo a trasformare tutte le nostre farine dalla grano tenero, grano duro, ceci, grano saraceno e mais. Le nostre farine sono acquistabili assolutamente da Triticum e abbiamo anche una sezione sul nostro sito con le nostre ricette dove è accessibile attraverso questo QR code dove si può prendere tranquillamente spunto per le idee in cucina. Infine, eccoci qua, guarda, ti facevo vedere una bozza, questa è una bozza di un libro di ricette su cui stiamo lavorando. Speriamo per settembre di riuscire a stamparlo. Questa è l'ultima cosa. Buona giornata.